Entra nella fase prettamente operativa il lavoro sui bandi relativi a cultura, turismo e sport alla valorizzazione del patrimonio pubblico, la cooperazione e il terzo settore gestiti dal sistema camerale nell'ambito di Next Appennino, il programma per il rilancio delle regioni del centro Italia colpite dai terremoti del 2009 e del 2016 finanziato dal fondo complementare al PNRR per le aree sisma. Al termine dell'iter amministrativo compiuto da Union Camer, infatti, è stato firmato dal commissario straordinario Guido Castelli il decreto contenente l'atto di concessione per le prime 43 imprese dei settori turismo, cultura e sport e stanno partendo le notifiche massive per avviare l'iter finalizzato ad acquisire alcuni documenti e così partire con le anticipazioni per un totale di 180 milioni di euro. Gli interventi riguarderanno lo sviluppo delle piccole e medie imprese culturali, creative, turistiche e sportive anche del terzo settore, nonché enti per iniziative di partenariato pubblico privato per la valorizzazione del patrimonio e piani di inclusione e innovazione sociale. Questo via libera rappresenta un momento davvero importante per il tessuto imprenditoriale dell'Appennino centrale ha dichiarato il commissario del Sisma 2016 Guido Castelli che prevede risorse ingenti funzionali a contribuire in modo rilevante alla riparazione e rilancio economico e sociale del cratere. Si tratta di finanziamenti che riguardano settori strategici rispetto ai quali i nostri territori esprimono un grande potenziale da valorizzare al meglio in cui vi è l'esigenza di fornire servizi aggiuntivi alle comunità.